Salve a tutti signori, ben ritrovati in questo nuovo video qui su Pausa Caffè per parlare di Mara Venier che ha ricordato nel programma Domenica In, Pier Francesco Forleo, ha avuto questa occasione per ricordare tanto di lui e allora ha detto voglio cominciare questa puntata salutando Pier, quindi praticamente lo ha fatto subito a inizio programma, ma contiene a stento le lacrime andando a ricordare il genero scomparso lo scorso 9 giugno 2023, quindi andiamo a capire cosa è successo nel dettaglio. Pier Francesco Forleo era solo mio genero e io la suocera, mi chiamava così suocera. Prova a prendere fiato la conduttrice. Non posso fare a meno di non cominciare ricordando chi ha portato solo gioia e amore nella mia famiglia. Ci mancherai tantissimo, scoppia in un pianto incontenibile Mara Venier che abbandona lo studio e viene mandata alla pubblicità. Pier Francesco Forleo si è spento a 62 NN nella notte tra l'8 e il 9 giugno 2023. Direttore della Direzione Diritti Sportivi della RAI aveva 62 anni. A darne notizie all'azienda di Viale Mazzini con un comunicato, la perdita di Pier Francesco Forleo ci lascia sgomenti. Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale. Sposato con Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier. Pier Francesco Forleo, la malattia, l'amore con Elisabetta Ferracini e il ricordo del nipote di Mara Venier. Ciao capi. Dopo la notizia della sua morte, la conduttrice di Domenica In ha pubblicato un post per ricordarlo. Pier, sei stato un genero meraviglioso, hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia, ed io ti ho voluto bene come un figlio, siamo tutti annientati tutto troppo veloce. La puntata di Domenica In, l'ultima per questa stagione, va avanti a fatica. Poi i saluti finali, i ringraziamenti, la torta per la conduttrice che chiude mandando in onda di nuovo una foto del genere. Per me oggi non è stato facile, ma io non vi mollo, volevo stare qua. Poi l'addio con la voce rotta. Ciao Pier. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.